Buonasera e benvenuti al nostro Tg. Sono sette i tifosi della Roma che hanno ricevuto l'avviso di chiusura e indagini per Rissa. I disordini sono quelli dell'8 gennaio scorso. Avviso di chiusura e indagini per sette tifosi romanisti rimasti coinvolti nella maxi Rissa avvenuta all'8 gennaio 2023 lungo il tratto a retino dell'autosole. I PM Marco Dioni e Chiara Pistolesi ipotizzano i reati di Rissa, lancio di oggetti pericolosi e possesso di oggetti atti ad offendere, mentre cade il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti per il quale è stata chiesta all'archiviazione. Gli scontri avvennero domenica 8 gennaio, come detto, tra gruppi di tifosi di Napoli e Roma. Un gruppo di Ultras era diretto a Genova per la partita Sampdoria-Napoli, l'altro andava verso Milano per Milan-Roma. Per diversi minuti, secondo la ricostruzione fatta successivamente dagli investigatori della polizia, le due fazioni si affrontarono lanciando oggetti contundenti su diverse aree del tratto autostradale adiacente all'area di servizio di Badialpino, facendo esplodere petardi e fumogeni. I disordini interessarono la corsia in direzione nord, causando l'interruzione del traffico autostradale con una fila di auto di 9 chilometri. Le attività investigative si concentrarono sulle immagini di videosorveglianza, da cui emerse il coinvolgimento di una trentina di persone. Intanto proseguono le indagini sulla zuffa avvenuta ieri nell'area di sosta di San Giovanni Valdarno, lungo la 1, che ha visto una scazzottata tra alcuni gruppi di tifosi di Juventus e Atalanta, fuggiti all'arrivo della polizia. In cammino per la pace, sabato mattina saranno circa 200 tra studenti e insegnanti a prendere parte alla marcia da San Pancrazio a Civitella, a 80 anni da quei drammatici eventi. La memoria storica ha da poco rivissuto quegli eventi strazianti con la visita del presidente Mattarella a Civitella per le celebrazioni del 25 aprile. Ed ora torna la tradizionale marcia in ricordo delle 244 vittime civili dell'ecidio nazifascista del 29 giugno 1944. Sono appunto 80 anni che sono passati dal 29 giugno del 1944, quando 244 persone furono uccise tra i comuni di Civitella e Bucine nella località di San Pancrazio. Per noi come scuole è anche l'arrivo, sempre questa marcia per la pace, di un cammino appunto in un percorso di pace, cittadinanza, educazione alla cittadinanza. Quest'anno devo dire ci abbiamo lavorato molto, noi come istituto comprensivo di Bucine, ma credo anche ai miei colleghi dei martiri di Civitella, proprio anche per la ricorrenza, per il fatto che era stato qui in Mattarella il 25 aprile. Quest'anno la partenza è da San Pancrazio, l'arrivo a Civitella, dove è previsto un flash mob degli studenti. È un lavoro continuo, un lavoro continuo tra noi docenti e in questo caso in modo particolare in collaborazione con le due scuole, con i due istituti. È un arricchimento sia per noi docenti che anche per i ragazzi che appunto sabato parteciperanno. Sono già in fermento nel preparare questo flash mob, quindi affinché tutto possa essere piacevole, ma anche sentito dalla popolazione, perché veramente è un momento toccante e di partecipazione attiva. E sempre con riferimento ai tragici fatti che accaddero a Civitella, Civitella scatta il risarcimento per una famiglia. I particolari li vediamo in questo servizio. Primo sì ai risarcimenti per la strage di Civitella del 29 giugno 1944 e per gli altri compiuti dai nazisti in zona. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, viene dal fondo del PNRR, aperto presso il Ministero dell'Economia, finalizzato al risarcimento dei danni verso una prima famiglia, che farà da apripista per le altre coinvolte. La famiglia in questione è quella dell'avvocato Roberto Alboni, nipote di una delle 244 vittime, ovvero Metello Cesarini. La procedura per la liquidazione è partita e ammonta a 900 mila euro, secondo quanto disposto dalla sentenza di condanna all'ergassolo di Max Josef Milde, ritenuto unico colpevole, sentenza risalente al 2008. L'avvocato Alboni fu l'unico all'apertura del processo davanti al Tribunale Militare della Spezia ad avanzare richiesta e ad ottenere la citazione in giudizio della Germania quale responsabile civile per la strage, richiesta alla quale si era opposto il PM Marco De Paulis, a cui serviva la collaborazione della Repubblica federale per le indagini. Dopo l'assenso dei giudici si aprì un iter giunto fino alla Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA, che si pronunciò in favore della Germania, eccependone la natura di Stato sovrano, decisione ribaltata dalla Corte Costituzionale. La Germania tuttavia si è sempre rifiutata di pagare, finché non si è arrivati all'istituzione del Fondo dello Stato italiano, che si è fatto carico dei risarcimenti ma con risorse molto inferiori alle richieste. Da mesi l'avvocatura dello Stato eccepisce la prescrizione civile, ma nel caso di Alboni era complicato chiedere la nullità perché c'era già una sentenza di condanna. Una battaglia però che ora prosegue per tutte le altre famiglie su un punto. Non può essere eccepita la prescrizione per i reati contro l'umanità. Un fatto inquietante è accaduto a San Giustino Valdarno incendio nella notte in fiamme auto e pannelli fotovoltaici. L'allarme è scattato intorno alle due e mezzo di notte quando le fiamme stavano già divorando auto in sosta. È quello che è successo la notte appena passata nella frazione di San Giustino Valdarno nel comune di Loro Ciuffenna. Fiamme scatenate nel parcheggio sotto i pannelli fotovoltaici che si trovano a fianco dello stadio comunale. Impressionanti le immagini del rogo quanto di quello che rimane delle carcasse dei veicoli e dei pannelli distrutti quasi per metà rispetto a tutti quelli presenti. Dieci veicoli coinvolti, nove di questi completamente mangiati dal fuoco. C'era anche un vecchio camper. Dopo le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, questa mattina i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica di quanto accaduto. La scintilla sembrerebbe essere partita da un'auto in sosta e quindi l'incendio dovrebbe essere catalogato come colposo e non doloso, quindi non volontario. Paura per i residenti. Le case si trovano infatti a pochi metri dall'incendio. Distaccata la produzione dei restanti pannelli fotovoltaici, le auto saranno rimosse nelle prossime ore. Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono tornati per effettuare delle verifiche utili a stabilire la dinamica dei fatti. Il fotovoltaico è di proprietà privata e l'area sottostante è adibita a parcheggio pubblico. Nessuno, per fortuna, è rimasto coinvolto nel rogo. Ancora cronaca, veniamo ad Arezzo. Primissima mattinata decisamente movimentata nei giardini di Campo di Marte, dietro alla stazione ferroviaria, dove un cittadino straniero, già noto alle forze dell'ordine, ha dato in escandescenze brandendo una lamiera con la quale ha tentato di tagliare dei fili elettrici. Nessun altro è stato coinvolto. Sul posto, polizia e carabinieri per calmarlo. Per lui è scattata una denuncia per possesso di oggetti atti a offendere. La politica, se è riunito oggi pomeriggio il Consiglio Comunale di Arezzo, la sicurezza e il futuro di Via Filzi sono gli argomenti costantemente al centro del dibattito. Rinviato il punto all'ordine del giorno sulla istituzione di un garante dei diritti dei detenuti. In chiusura, puntuale il Consiglio aperto relativo alla riqualificazione di Piazza di Saione. La sicurezza in città è uno degli argomenti regolarmente dibattuti nello spazio concesso alle interrogazioni a Palazzo Cavallo e anche oggi non c'è stata eccezione. Il consigliere Marco Donati di Scelguarezzo ha presentato un'interrogazione sui costi di gestione del nuovo servizio di vigilanza privata ai porcinai e sul resoconto dell'attività del cane antidroga. Ma sul budget messo a disposizione finché non inizieranno i lavori di riqualificazione dell'area, il sindaco si è riservato di rispondere per scritto, non conoscendo al momento i numeri. Di rilievo anche la questione del degrado e del cantiere di Via Filzi. Il consigliere del PD Alessandro Caneschi ha indagato sull'esistenza di un eventuale piano B e su questo il primo cittadino è stato piuttosto chiaro replicando di essere in difficoltà. Ghinelli ha specificato di voler tenere in piedi il rapporto con il privato finché possibile, sono in corso valutazioni che investono risvolti giuridici e di convenienza economica. Un eventuale piano B prevedrebbe di chiudere le trattative con la banca e discutere dei costi per l'acquisto e con questa opzione i tempi diventerebbero un interrogativo. Adesso l'economia inflazione nel mese di aprile non è buono il dato di Arezzo, lo rileva un'indagine dell'Unione dei Consumatori su dati Istat. L'Istat ha reso noti i dati territoriali dell'inflazione di aprile. Sulla base di questi dati l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la top 10 delle città più care di Italia in termini di aumento del costo della vita. In questa speciale classifica in verità poco invidiabile Arezzo si piazza al nono posto in Italia. Secondo i dati l'incremento dell'inflazione ad Arezzo su base anno ammonta l'1,9% che si traduce in una spesa aggiuntiva pari a 383 euro. In testa la top 10 delle città più care di Italia, Venezia. Medaglia d'argento per Siena dove il rialzo dei prezzi dell'1,9% determina un incremento di spesa annuo pari a 485 euro a famiglia. Medaglia di bronzo per Parma e Rimini. Appena fuori dal podio Milano, poi Firenze. Nella graduatoria delle città più virtuose di Italia vincono 3 delle otto città che sono in deflazione. Al primo posto a Osta, poi Imperia e quindi Caserta. In testa la classifica delle regioni più costose con un'inflazione anno al più 1,3% e il Veneto. Segue la Toscana dove la crescita dei prezzi dell'1,2% implica un'impennata del costo della vita pari a 297 euro e terza l'Emilia-Romagna. Il prossimo servizio si riferisce all'energia. Per incentivare il passaggio al gas metano, Centria lancia la campagna a costo zero. In 26 comuni dell'Aretino sarà possibile usufruire di agevolazioni. L'adesione potrà avvenire fino al 31 marzo 2025. Abbattere i costi degli allacciamenti alla rete gas naturale è l'obiettivo della campagna costo zero lanciata da Centria al fine di promuovere il passaggio al gas metano. Nell'Aretino sono 26 i comuni interessati dall'iniziativa. Proponiamo un'iniziativa sull'allacciamento gratuito che sarà offerto fino al marzo 25. Quindi chiunque è nelle condizioni di poter allacciarsi ma fino ad oggi non l'ha fatto perché ha fatto altre valutazioni o altri tipi di scelte energetiche oggi lo può fare a costo zero. Da un punto di vista tecnico come si svolgerà appunto questa operazione? Rientrano tutti gli allacciamenti fino a un diametro di tre pollici quindi ricoprono diciamo oltre il 90% di tutti i nostri collegamenti e le richieste che ci vengono dall'utenza quindi tutti gli allacciamenti per unifamiliari ma anche per condomini e qualche anche attività commerciale e industriale. Previste inoltre delle agevolazioni per le nuove richieste di estensione della rete. Cioè tutti quegli utenti che sono un po' lontani dalla nostra rete dove non è sufficiente realizzare solo l'allacciamento domiciliare ma ha bisogno di un'estensione proprio appunto della rete l'azienda mette un contributo che è pari al costo di 30 metri per ogni potenziale utente che si potrà collegare a quella rete. L'investimento nelle infrastrutture rientra nelle strategie del gruppo Estra. 22,5 milioni saranno gli investimenti nel territorio sia in termini di manutenzione, estensione reti e anche diciamo investimenti tecnologici. Torniamo alla politica e parliamo delle prossime elezioni amministrative che sappiamo nel territorio della provincia di Arezzo interesseranno 26 comuni. Un noto locale di San Giovanni Valdarno ha ospitato la presentazione della lista del candidato sindaco Vittorio Tinagli. Il candidato a sindaco di San Giovanni Valdarno per la coalizione di centrodestra Vittorio Tinagli ha presentato la sua lista. Qual è il criterio che è stato scelto e seguito per formare la lista? Il criterio è molto semplice. Abbiamo cercato di colmare, di riempire la nostra lista di tutte le professionalità e le competenze possibili del territorio. Quindi abbiamo cercato dall'impiegato all'operaio fino all'imprenditore e addirittura a chi ha già lavorato in comune come segretario comunale, avvocati e non solo. Questo perché abbiamo bisogno di persone preparate, di persone che possano sostenere la macchina comunale e che possano garantire il cambiamento a San Giovanni Valdarno. Una campagna elettorale che Tinagli ha definito sotto certi punti di vista vintage. Sentiamo perché. Amiamo stare a contatto con le persone e quindi cercheremo attraverso i gazebo di ogni sabato al mercato, ogni sabato mattina saremo presenti. Per di più cercheremo di parlare con le persone facendo dei giri sulla città e cercando di contattare e di entrare direttamente in contatto con la gente che è quello che cerca perché comunque spesso e volentieri sono stato fermato da persone che mi dicevano io ho bisogno di poter parlare con qualcuno cosa che spesso non accade più. Da San Giovanni Valdarno ci trasferiamo a Cortona, Baldetti, una lista con alte professionalità. Così la candidata sindaco di Cortona ha definito la sua lista che ha presentato proprio in queste ore. Vogliamo, ha detto, rilanciare anche la più piccola delle frazioni. Con Sara Baldetti presentata la lista ufficialmente, qual è stato un po' il criterio per la scelta? Allora, essere rappresentativi di tutta la comunità cortonesi, ovviamente non nego che nella nostra lista ci sono molti imprenditori, anche imprenditori che hanno una certa rinomanza in zona che rappresentano, per dire, il capolista è Angiolino Fruscoloni, il settore della informatica, consulenza informatica, sicurezza dati. La seconda è Marta Baldetti che è mia sorella e lei è anche un'imprenditrice nella green economy e agricoltura e consulente ambientali. Gli altri poi sono impiegati, funzionari per esempio della Chimet, Roberto Bucci, Deborah Mancini è una responsabile vendita in un supermercato, comunque ci sono anche operai, persone che hanno lavori, diciamo, che non sono imprenditori, per essere rappresentativi di tutto quello che è la nostra comunità. E qual è il modo per veicolare il vostro messaggio? Allora, noi abbiamo scelto il metodo tradizionale di andare nei paesi e incontrare la gente, lasciare i nostri programmi, parlare delle problematiche di ogni frazione. Ogni frazione ovviamente da parte nostra ha un'attenzione particolare, ma soprattutto abbiamo dei progetti di sviluppo delle varie frazioni, anche le più piccole. E adesso parliamo di un convegno, un convegno che si è svolto e è stato ospitato nella sede di Confartigianato Arezzo. Susten, l'abilità artigiana nella transizione ESG, è il titolo del convegno ospitato nella sede di Confartigianato Imprese, aziende aretine protagoniste nel raggiungimento di livelli virtuosi di sostenibilità. Supportare le aziende verso un modello sostenibile d'impresa, con questo intento Confartigianato ha promosso un incontro, primo, sul territorio toscano, ponendo l'accento sui cosiddetti parametri ESG, criteri che analizzano il profilo ambientale, sociale e di buona governance delle imprese nella transizione ecologica. Un'iniziativa con relatori di fama nazionale, alla quale hanno preso parte numerosi associati in rappresentanza del tessuto economico aretino. La transizione ecologica e ESG è una tematica che riguarda tutte le aziende, non esclude nessuno, dalla più piccola, più grande, a prescindere dal fatturato, a prescindere dal numero di dipendenti. Sono dei parametri, dei valori che verranno attribuiti alle nostre aziende, grazie ai quali le nostre aziende potranno sia continuare a lavorare per rapporto di filiera, perché sono requisiti sempre più indispensabili, e dall'altro lato saranno utili anche fino ad arrivare all'accesso al credito, saranno dei parametri, quindi anche il rating finanziario sarà in relazione a questi parametri ESG. Quindi abbiamo pensato di fare questa iniziativa per sensibilizzare prima di tutto le nostre aziende, ripeto, è importante, nessuno è escluso. Oggi viene vissuta come un obbligo, come un onere, e invece dobbiamo far capire come riuscire a farlo divenire un valore aggiunto per le nostre aziende, è una grande opportunità. La presenza che possiamo vedere qua oggi delle persone testimonia che l'argomento è centrale di interesse e insieme, credo, all'associazione Confartigianato, la nostra associazione, potremo fare un percorso che porti ad ottenere un grande risultato. Adesso un evento che si svolgerà a Camucia perché torna a Camucia, a Camucia in Fiera. Una domenica dedicata al commercio a Camucia, in piazza Sergardie, zone limitrofe, che ospiteranno appunto questa manifestazione. Sarà una domenica di festa a Camucia perché torna a Camucia in Fiera. Un appuntamento molto atteso, non solo dagli abitanti, ma anche dagli espositori. Quest'anno saranno ben 50, come ci conferma Lucio Gori di Confesercenti, che è anche l'organizzazione che allestisce questa iniziativa. Torna a Camucia in Fiera, un appuntamento ormai tradizionale della primavera della Val di Chiana. Camucia è il centro commerciale naturale più grande dell'intera Val di Chiana a Retina. ospiterà oltre 50 espositori provenienti non solo dalla provincia, ma da tutta la Toscana, con ottimi prodotti utili soprattutto per le famiglie, per il cambio di stagione. Quindi un'opportunità di vivere Camucia, di trovare tra i banchi degli espositori prodotti all'insegna della qualità e della varietà. E soprattutto potremo tornare a utilizzare Piazza Sergardie nella nuova veste, il che ci consentirà anche di animarla con espositori di artigianato artistico, opere dell'ingegno, florovivaismo. Quindi Camucia e i suoi cittadini, gli abitanti dell'intera Val di Chiana, potranno per questa domenica, ci auguriamo se il tempo ce lo consentirà, riappropriarsi di spazi, di socialità e anche quindi vedere e visionare le attività commerciali del centro di Camucia. Quindi un'occasione e un invito per tutti, Camucia in Fiera, domenica 19, dalle 9 alle 20. Questa mattina nel Salone delle Feste della Prefettura di Arezzo, il prefetto Maddalena De Luca e il questore Maria Luisa Di Lorenzo hanno consegnato le ricompense al personale che si è particolarmente distinto in operazioni di servizio. I dipendenti della Polizia di Stato premiati appartengono all'Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e alla Squadra Mobile della Questura, nonché al Commissariato di Sansepolcro e alla Sottosezione della Polizia Stradale di Battifolle. Sarà un fine settimana ricco di iniziative per il MUMEC di Arezzo, il Museo dei Mezzi di Comunicazione. Ne parliamo con Fausto e Valentina Casi. Ad Arezzo proseguono le celebrazioni dedicate a Guglielmo Marconi, ai 100 anni di radiofonia e ai 70 della TV con il MUMEC in prima fila. Andiamo all'Accademia Petrarca e domani sera alle 17 facciamo proprio questa apertura della nuova manifestazione aretina che vede un'altra mostra fatta apposta per Marconi con tutti i pezzi originali presi dai nostri magazzini senza toccare tutto quello che è qui nel museo. E inoltre la presentazione con un convegno che vede la presenza anche di personaggi sia dell'Accademia ovviamente che saranno gli ospiti nostri, sia io che farò una mia relazione scientifica e tecnica e anche un po' storica diciamo così di Guglielmo Marconi e poi ci sarà il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici che verrà qui ad Arezzo apposta per un saluto istituzionale. Per voi sarà un fine settimana impegnativo, il 18 invece c'è la notte dei musei. Il 18 sarà l'International Day of Museum e la notte dei musei quindi sicuramente un fine settimana impegnativo per noi del MUMEC a cui abbiamo aderito però con gioia quindi faremo in particolare in tutta la giornata e soprattutto nella sera della notte dei musei in cui tutti i musei d'Europa che aderiscono hanno ingresso ad un euro e saremo aperti dalle 8 e mezza alle 10 e mezzo in serale e notturna con una proiezione particolare di filmati storici della RAI. E sarà sicuramente interessante perché sappiamo che l'archivio RAI in fondo è una miniera. Questa sera subito dopo il Tg delle 20 e 30 potrete assistere a Newsline dentro la notizia e 9 e 10 informazione attualità. La serata proseguirà poi con Pianeta Sanità. In questa puntata Matteo Giusti affronta con i suoi ospiti il complesso e fondamentale aspetto dell'urologia. alle 23 appuntamento con in compagnia di Alessio. È tutto per questa edizione del nostro Tg. Grazie quindi a tutti della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi. Grazie a tutti!